Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1 km di coda per un veicolo in avaria in direzione sud tra Barberino e Calenzano. In carriera top posta rallentamenti per mezzi in lento movimento tra Calenzano e BV1 Variante e per perdita di carico tra BV1 Variante e Sasso Marconi. Ci spostiamo sulla Firenze Mare dove troviamo coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. verso Pisa, code a tratti tra Prato Oeste e Pistoia. Prudenza inoltre per presenza di fumo tra BV11 raccordo a 12 e il BV11 raccordo Lucca Viareggio. Arriviamo in FIPD per traffico, code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci verso Firenze in carriera top posta, code in uscita SGC Scandicci in uscita alla Strassigna a San Miniato e a Santa Croce. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!